tra poco saremo a marina di ginosa siamo a 30 chilometri da taranto stamattina abbiamo lasciato matera abbiamo fatto una cinquantina di chilometri passo già da oggi dopo giorni e giorni di colline oggi finalmente vedremo il mare del lusavento no 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 Musica Guardate che sole ragazzi, che sole, che sole oggi Una palla di fuoco Non siamo tanto Siamo al quartiere Tamburi, tra un po' andremo al centro Dopo Welcome Talento Ciao porto cesare ci siamo mare siamo a pulzano bene adesso facciamo tutta la litorania fino a porto cesareo siamo a marina di lizziano che mare che mare sono tenuto sia portato via no c'è li lacrini preghe oh bene ragazzi bentornati siamo a una ventina di chilometri da porto cesario da il terzo bagnetto che faccio c'è il mio bolide mare incredibile dicevo questa mattina abbiamo fatto una sosta una tappa taranto poi ci siamo messi nella costa e abbiamo pedalato fino adesso perché vogliamo arrivare se ce la facciamo a gallipoli entro questa sera in maniera che siccome che domani hanno messo bel tempo faremo una sosta gallipoli la costa ionica è qualcosa di incredibile veramente molto molto bella ragazzi venite in vaganza in puglia e niente vi terrò aggiornati sul proseguito il mio viaggio soprattutto ma anche del vostro viaggio perché siete venuti a fare questo viaggio insieme a me e vi porterò ancora ancora più in fondo la puglia al tacco d'italia a e poi faremo una breve risalita credo che arriveremo a polignano a mare e dopo di che da lì si ritorna in treno a casa bene ragazzi dopo avervi detto ciò vi lascio con la mia bomba che mi ha portato fino a qua e con questo splendido panorama ciao ragazzi a più tardi adesso facciamo passare la macchina anzi le macchine che c'è una notizia bomba ciao 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 allora stiamo per compiere un'impressione oggi un'impressione ancora non so se c'è la parola ma penso che c'è taranto gallipoli 100 anzi no siamo quali di la città piano piano la castellaneta marina a gallipoli 144 piloti tutti tutti in un giorno ragazzi incredibile sto per compiere un'impressione sto per compiere un'impressione se riesco grossa grossa impresora e vabbè che volete fare sono partito con 50 60 70 80 100 non ci accontentiamo 140 144 per la precisione chilometri dopo quattro bagni in un mare spaziale potete dire abbiamo virato tutta su gallipoli e vedremo e poi ci fermeremo lì questa volta perché domani ragazzi ha messo pioggia 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 tanta pioggia domani e allora oggi approfittiamo per calare il poker oggi asso di poker e si va si va ragazzi è così i viaggi in bicicletta sono così vai convinto che non ce la farai anzi no convinto che ce la farò ce la metto tutta ragazzi come sempre andiamo wow wow ooh wow 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 a e e i o u i y 28 alla meta barca a non finire ole qui è Lippoli eccoci qua Lippoli 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 Lippoli